Sono iniziate questa mattina le operazioni di bonifica da parte di Ambiente Italia della discarica abusiva a cielo aperto in via Aerali Punti. Sono stati impiegati due mezzi e quattro operai per pulire una strada inagibile al transito dei veicoli. I rifiuti infatti coprivano gran parte del manto stradale. Una situazione ormai nota da tempo e che richiedeva un intervento urgente. Questa mattina gli operai della società addetta allo smaltimento dei rifiuti e della pulizia hanno rinvenuto 60 kg di carne marcia, pezzi di auto, elettrodomestici, ethernet e molti altri oggetti abbandonati incautamente. Una parte consistente del materiale recuperato è considerata altamente inquinante. Le operazioni di Ambiente Italia hanno consentito di ripulire buona parte dell'area, ma saranno necessari ancora altri interventi per la bonifica dell'intera superficie, che una volta ripulita potrà essere restituita al suo regolare utilizzo.